Ci troviamo in zona Fiera a Padova e più di una cinquantina di migranti e rifugianti hanno occupato questa struttura, la Casa dei Diritti Don Gallo. Come potete vedere si stanno trasferendo qui e stanno ripulendo questa struttura. Adesso avanziamo e vediamo dove si stanno sistemando. Come potete vedere dalle immagini questa struttura è perfettamente agibile. Continuano la pulizia delle stanze, hanno portato i loro materassi. Come potete vedere! Grazie.